buongiorno a tutti questo breve tutorial per spiegarvi come aggiungere l'estensione google meet grid view al vostro google meet in cui i ragazzi della vostra classe compaiono sempre nella colonnina di destra e non li potete vedere in contemporanea allora è molto semplice andate a cercare sullo store di chrome chrome store digitate chrome web store cliccate qui cercate nello store quindi google meet grid view eccolo qua alle estensioni aggiungete aggiungi estensione ovviamente dovete lavorare su google chrome ecco poi andate a collegarvi con google meet oppure entrate in classroom io vado da questa parte per questioni di privacy avvia una nuova riunione la creiamo ecco scriviamo per esempio esempio appunto continua accesso in corso ecco partecipa una volta entrati potete avere avete la possibilità cliccando su questo quadratino che si mostra e si è aggiunto di vedere tutti i ragazzi che partecipano o di vedere solo quelli con la fotocamera attiva illuminare che sta parlando e includere se stesso nella griglia il risultato poi sarà questo spero di essere stata utile con questo breve tutorial ci vediamo alla prossimo arrivederci grazie buon lavoro